ciao a tutti ragazzi bentornati su lp project oggi andremo a caccia di foto nel senso che non so se conoscete l'applicazione un videogame per il cellulare pokemon go noi con pokemon go che adesso andiamo ad attivare andiamo a cercare i punti di interesse qui a casale monferrato invece di andare a catturare i pokemon andremo a catturare i punti di interesse per fare delle foto e mia donna quanta roba do il cellulare a francesco adesso partiamo ford ford audio tech e andiamo a catturare i punti di interesse bene ragazzi adesso stiamo andando a mettere un 50 mm sulla macchina e lo useremo per fare queste foto che poi verranno pubblicate sul mio profilo di facebook poi vi lascio il link in descrizione lp project verranno pubblicate anche sul mio profilo instagram anche lì vi lascio poi il link qua sotto ok adesso possiamo vedere che qua c'è un punto di interesse che si chiama la spinge decapitata ragazzi adesso invece guardate questa statua oscura si chiama e andiamo a fare due foto anche a questo bene ragazzi siamo arrivati a un altro poche stop appunto di interesse questo si chiama monumento a giuseppe garibaldi ok ragazzi venite verso me adesso a fotografare la statua di giuseppe antonio ottavi ragazzi siamo qua al parco di casale monferrato stiamo facendo le foto bellissimo parco la gente ci guarda oddio ma si lasciamo che ci guardano chi se ne frega bella giornata bella giornata di sole aspetta che mi son perso fra devo andare di là andiamo a vedere allora monumento giovanni lanza adesso andiamo di là bene ragazzi siamo arrivati diciamo all'ultima l'ultimo punto di interesse ormai si è fatta una certa siamo arrivati alla primavera italica ok adesso tiriamo su la bandiera dell'italia fratelli d'italia non c'è niente però fra non c'è niente però tiriamo su tiriamo su lo stesso la bandiera italiana facciamo sventolare tricolore bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video vi invito comunque come al solito a cliccare mi piace e mi raccomando iscrivetevi al canale e sotto nei commenti fatemi sapere se il video vi è piaciuto in descrizione link per quanto riguarda facebook instagram e tutte cose vi lascio alle foto che abbiamo fatto in questa mattinata un saluto da lp project e da francesco che adesso sta riprendendo al prossimo video ciao ragazzi iscriviti al canale iscriviti al canale